Ciao amici di Vacanzelandia, benvenuti alla tappa 12 del Noi Convoi Tour. Questa volta siamo però al mare, siamo passati dal nord Italia, dal Piemonte e questa tappa è in Toscana, precisamente ad Albina, provincia di Grosseto. Esatto, esatto, campeggiano sotto la pineta, splendido, guardate che bella la pineta e il mare qua a 100 metri, la spiaggia, una spiaggia lunghissima di sabbia, quindi va bene anche per i bambini, che va benissimo per fare il bagno. E noi stiamo aspettando gli amici di Vacanzelandia che si sono iscritti a questa tappa, sono tanti equipaggi e considerate che la metà non li conosciamo, quindi siamo anche curiosi di scoprire chi sono. Quindi continuate a seguirci in questo video perché scoprirete anche tutte le attività che abbiamo programmato per questa tappa. Ci vediamo dopo la sigla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.